Si chiama Travis Campbell, ha 43 anni di età, è un uomo no-vax della Virginia, sta in America, ricoverati in ospedale per colpa del Covid-19, il coronavirus, complicanze di natura polmonare. Adesso sta sfruttando i propri social network per far sì che tutti si vadano a vaccinare. Anche la moglie di figli ovviamente sono stati infettati, l'uomo ho fatto sapere attraverso un video che tutti devono vaccinarsi, non siamo purtroppo invincibili, nonché indegni al Covid-19, al coronavirus. L'uomo ha chiamato la moglie, Kelly, che ha ovviamente contratto il Covid-19 e adesso l'uomo si trova in terapia intensiva sotto ricovero ospedaliero. L'uomo non ci pensa due volte, avvisa tutti, fate attenzione, il Covid-19 è dietro l'angolo. Ognuno può rimanere contagiato. Bene, questo dunque è qua. Tutti vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi. Fate molta attenzione, vacciniamoci per evitare di prendere il coronavirus di Covid-19. Un saluto Recaro D'Ariano, un'altra domenica.